La settimana passata abbiamo fatto il varo delle travi per la sistemazione del ponte. Questa settimana dopo aver fatto tutta la struttura in ferro abbiamo fatto il solettone di unione e a 28 giorni dalla maturazione del calcestruzzo si farà il collaudo e si procederà al transito nuovo del ponte. Siamo arrivati a buon punto con questo lavoro, di fatto il getto dobbiamo aspettare circa un mese e per aprirlo poi definitivamente sono i tempi tecnici per la maturazione del calcestruzzo.